A quelli meno noti vuol dire che è uno Stato debole, che mostra i muscoli spesso nei confronti dei deboli, appare come lo Stato forte nei confronti dei fragili e poi uno Stato con la spada di latta nei confronti dei potenti. La mia presenza qui in Cilento è un po' caratterizzata con profili diversi, generazione diversa, ruoli diversi ma delle parole di Vincenzo Iurillo. Io credo che chi ama la libertà, chi ama la giustizia, chi ama la verità deve lottare fino alla fine fin quando quella verità, per quanto limitata può essere una verità giudiziaria, non venga ritrovata.